La Sicilia nei prossimi 50 anni perderà 1.156.000 abitanti, passando dagli attuali 5.040.000 ai 3.884.000 alla fine del 2065. Questo emerge da un Alexio Magistralis che Delio Miotti, dirigente di ricerca dello Svimez, ha tenuto al corso di mediatore culturale che sta per partire al Consorzio Universitario di Agrigento, promosso da Agoramundi. La paura per lo straniero, scrive Miotti nella sua relazione, la drammatica distanza tra realtà e percezione dei fenomeni migratori, la sconcertante ignoranza sullo stato della nostra demografia, mettono drammaticamente in ombra le precarie condizioni della demografia nazionale. Una nazione che fa sempre meno figli, i quali in buona misura, appena raggiunta la maturità, scelgono di lasciare il Paese alla necessità, quindi al pari di gran parte del mondo occidentale, di un forte contributo della componente esogena della propria popolazione, gli immigrati. La loro presenza è ormai indispensabile per la conservazione di un necessario equilibrio del sistema. Tra il 2002 e il 2016 sono andati via dalla Sicilia 448.000 nativi, 71.000 erano laureati, 225.000 erano giovani tra i 15 e i 34 anni. Lo scorso anno a prendere le valigie sono stati 35.000 siciliani, molti di loro erano messinesi.